Devo dire che siamo molto contenti di questa delibera per quello che rappresenta, ossia un cambio di passo nella gestione del territorio, nella riduzione del consumo di suolo e nel rinnovamento di strutture fatiscenti che abbiamo in questa città. Ed è finalmente un intervento pubblico come non succedeva da tantissimi anni in questa città. Quindi votiamo convintamente sì a questa delibera che farà d'apripista per molte altre, speriamo, di questo tenore. Inoltre vorrei dire anche un'ultima cosa, ma questa scuola di Via Tarso l'avete mai vista? Un edificio prefabbricato di due piani orribile, fatiscente, già abbandonato. Ma che ci dobbiamo fare? Demoliamolo e ricostruiamolo approfittando anche dei finanziamenti che sono stati messi in campo dalla Prefettura. Grazie.